Prima di andare verso la sellina, vediamo cosa c'è dall'altra parte. Oh, è quella? Questo è un acquitrino segreto. Cos'è? Chi è? Oh! Ma... Wow, fermi tutti. Sprint. Scan. Cosa sei? L'acqua fa male. Buono. Principe Sibudina. Condizione per l'imprismazione, combatti con un solo personaggio in squadra. Eh, no, non posso farlo. Devi possedere un prisma della monoprozione. Che mi dici tu? Mol borbeta. Infliggi uno status alterato. Però è resistente a tutto. Molto bene. No, è fuori dalla mia portata. Oh, mi ha mancato. Beccati questa! No, io ho fatto niente. Ok, è fuori dalla mia portata. L'abbiamo capita. Andiamo nella parte giusta. Non rende affatto. Tu ti dici qualcosa? No. Scansioniamo. Prima diamoci un po' di sped. Eh, sì. Eh, dai. Questo versare non può essere imprismato. Ma lo faccio lo stesso, il check, perché non si sa mai. Ok. Non posso infliggergli alcun stato alterato, però è mediamente debole a tutti gli elementi. Si va di magia. In mira va bene. Molto bene. Allora anche i drora. Si, si. Questo si fa facilissimo. Ok. Ah sì, dai. Pensaci tu. Boom. È diventato piccolo. Evviva! 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 Level Up! Ho preso anche Gemma dell'Anima. Allora. 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 più grande che questo ha attaccato la mia città e ha avuto un po' serio damage ho trovato che una buona periodica è la migliore modo per mantenere il grande giugno in attenzione sembra una grande grande nuisance grazie a te ho potuto riuscire molto più di quello di oggi non sarà attaccare le città per un tempo comunque sembra che il bosco in fronte potrebbe essere bello e dry credo che sei bene ok magari vi vediamo ancora una volta sai anche per un ragazzo che slinga l'ice magica era sorprendentemente tranquillo sì, lo dirò quindi, sei pronti per kiss this place goodbye? spero che il resto sia facile l'emblema di snow è stato sbloccato puoi acquistarlo dalla ragazza senza nome ci sono nuove merci disponibili nell'emporio di cioccolate vuoi salvare i tuoi progressi? eh sì, che dici? finalmente puoi dire addio al pantano addio al pantano cosa c'è di qua? sembra Cosmo Canyon c'è un isolotto si potrebbe raggiungere questo isolotto? scoiattopatico un mumu particolarmente incline e comportamenti bizzarri è in grado di curarsi da solo quelli che mastica non sono veriteschi ma non cintarsi l'uso dei denti è ricorso a una patienza infinita due panacee regione deserta regione deserta ooooh ooooh Che ne dici di fare una sosta alla carovana? Chi è quella? Wow, guarda, robber ducchi! Non mi metterò! Sono solo un mercantino per un po' di ubiquità. Ho bisogno di alcuni di questi, quindi potrei fare alcuni accessori. Che ti dici, Dalai? Vuoi aiutare a mi aiutare? Ci sarà un regalo d'ordine! Trari di drago? Ma sì! Ho di ho di ho di ho! Sono molto felice che ho chiesto di te per te! Ci mercanti siamo troppo busi e tizzi per fare tutto. Buona luckity duckity con la searchity search! Oh no! È Ned Flanders! Ho di ho di ho di ho! Sono molto felice che ho chiesto di te per te! Ci mercanti siamo troppo busi e tizzi per fare tutto. Buona luckity duckity con la searchity search! Luckity duckity! No, sono tutti così arrabbeggianti qui. Grazie. Non l'avevo capito. No, non l'avevo capito! No, non l'avevo capito! No, non l'avevo capito! Ho! … Non me la racconta giusta... I can smell smell what mirages over there over the way to the north who gonna be you reach the lowest tier of grimoire why not stay and relax what's that big bridge ponte magno bp the ponte magno and the final fantasy and it's a quinto però the actus vera ma io sono sportissimo forze number three doom causes a timer to appear above your head once it takes down to zero you'll be instantly killed there's no way to remove the condition so you need to end the battle one way or another before time runs out either by defeating your opponents or escaping rounding up mirages you say talk about your peculiar hobbies well around these parts the best place to search would be the phantom sands not too far from this caravan but trust me I'd steer clear of the place if I were you e perchè missioncina say you're the proud owners of a plan too aren't you no need to hide it my plan sense never lies to me I love everything about plans I love hugging their squishy little bodies I love pinching their adorable pudgy faces if you ask me if you ask me lands are just about the cutest things ever I love them so much I could gaze at them all day long and never get bored oh but that's not the half of it my top secret plan sources tell me that there's one plan that commands all the flandom l'ho vista she's known as the flan princess and she leaves her fellow flans with dignity and grace oh what I wouldn't give to be able to see her for myself just once if you ever find the flan princess please introduce us oh and I'm prisoner on the principle of this book oh 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 Ah oh 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 il bolboro o dillo più onestamente non volete che ci vada è infatti mi mettete una tempesta di sabbia io cavalco un molboro signorina o era un signore deserto fantasma inizialmente il clima deserto è pieno di luci quando siamo arrivati a un documentario? un documentario? abbiamo attraversato tantissimi dungeon finora ok bivio è trivio in realtà oh c'è un forziere lì sotto porca miseria è qui? niente due due mmm semi rinascita non male non male questo è prezioso ora dalla mappa dove mi conviene andare? non si capisce adesso proviamo ad andare in alto a destra nasce temer da bu be il vi 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 Devo seguire la luce. Ciò significa che devo andare a sinistra. Oh mio, quanto rumore che fai mentre cammini. Oh mio, che svegliere il sonore che ci siamo ascoltati. Penso che si sta accettando la scuola di più di più di più. Mi scusate? Non mi provo a provare a cercare la scuola. In altri parole, questo non sarà finito la scuola. Ahah, sono andato oltre Ho capito, è a zig zag Strutturata così la mappa finché non raggiungo l'obiettivo Ok, altre due attraversate Stavolta devo andare a destra Ho un forziere Miragemma fascino Cosa fa? Ma non so qual è la... Non so cosa fa, fascino Una gatta poco propensa a fare le fusa Evita volentieri le carezze A volte riesce anche a neutralizzare gli attacchi fisici Quindi pensa bene a come colpirla O di usare la lettiera forse perché è lei stessa fatta di sabbia Ha, 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 ha Ha, 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 ha Seguiamo la luce Ora Ah, si sta Ancora un'altra strata Eccoci qua Tornerò un attimo indietro per prendere i forziere Uh, un altro forziere Due gran pozioni Piuma di fenice Ci piace Ora salviamo e vediamo cosa andremo incontro Cosa ci aspetterà? Uh, un altro forziere Porca miseria Verme della sabbia Sandworm Mostrami le tue debolezze Acqua L'acqua L'acqua gli fa mare L'acqua, il vento e il ghiaccio Ok Forse me la cavo Acqua, vento e ghiaccio Giusto? Ma allora, scusami Cominciamo in grande stile Pugno fermo Causa danni di elemento gelo a tutti i nemici E aumenta la difesa degli alleati Facciamoli vedere cosa possiamo fare Ma che simpatico E quanti level up Con i gemelli sto per raggiungere livello 40 Non male Sto per raggiungere livello 40 Sto per raggiungere livello 40 Sto per raggiungere livello 40 Ministro Sto per raggiungere ieri Ineremente Ci sono Mocchi Campione E la terra Final Fantasy XIII Non so quello che hai fatto, ma grazie. Quanto più ci siamo qui, più 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 viveremo. Oh, ragazzo, cosa? Vai! Guarda! 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 Guarda, guarda, guarda! Uii! Chissà se Lighting ha qualcosa di utile da dire. Ma no! Non ha mai avuto niente di utile da dire. Questo è uno spiazzo nel nulla proprio. Ah, perché non abbiamo ancora finito di attraversarlo. Dai, non ci pensare. Tu? La luna è una cosa di bellezza oggi. Sì, va bene. Raitonin! No, non ci pensavo che i gianti di giocatori di giocatori potrebbero avere tantissimi problemi di attraversare il deserto. Oh! Quindi ci hai parlato di noi. Perché sei così felice di questo? Prendi mi, non vogliamo fame. Questo ti ti fanno bene. Oh, grazie. Donna ospitale. Speriamo che non sia veleno. Oh! I giocatori della profesi? Interessante. Questo ha spiegato alcune cose. Hm? Quindi hai parlato di loro? Non credo che puoi raccontare più. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Cosa? Cosa? Non è vero. 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 Che si è vero. È vero. Che vuoi dire che ci siamo tornati qui per il giorno? Sì, ok. Buona notte, brain. Buona notte. Hmm, misteri.